Ciao mondo di Youtube, come vi avevo detto nel video precedente, sono qua con Luca, che è lui, che è il mio ragazzo, saluta amore Ciao E volevamo fare il video tag, my boyfriend tag E come vi avevo detto, volevo ringraziare Magica Pucco, che è la ragazza da cui ho preso il tag Dopo vi metterò nell'info box anche il link del suo canale, che tra l'altro è molto simpatica E niente, sono una serie di domande che farò a Luca Iniziamo con le domande Sei pronto? Pronto Potresti pentire di aver voluto fare il video, lo sai? Ma hai pentito, vai tranquillo Come hai pentito? Vabbè Domanda numero uno Ho il pc perché leggo... Mi vedi agitato? No, è strano Ho il pc perché leggo le domande dal suo canale Prima domanda Dove ci siamo conosciuti? Tic Tac La Tanna dei Golosi Spieghiamo anche allora che cos'è No, vabbè, allora la prima volta a scuola Però vabbè, noi non ci conosciamo molto Poi la prima volta seriamente ci siamo conosciuti la Tanna dei Golosi Che è un luogo dove si fanno gli aperitivi E lei è mischiavato E' cominciato a fare un po' di strozzate Però vabbè, la lasciamo Non mi piace bere, assolutamente No, no, è super sopra Non ti è strozzate? Super sopra Sì, ok Domanda numero due Dove siamo andati al nostro primo appuntamento? Eh, siamo andati in un locale molto carino e romantico Sì Era romantico Era romantico Non era romantico Non era romantico Ma non mi ricordo il nome Eh, se non ti ricordo il nome Dai, che lo sai Eh, vabbè Dai, non lo sai, vabbè Domanda numero tre E ancora, cioè, sei portato male Ti ho portato male Qual è stata la tua prima impressione su di me? Oh, cazzo Ehm Ci pare un po' Che sempre quella canzogina Sì, Luca, non è che posso passare A tagliare il video, eh E niente, visto che è una bella ragazza Simpatica Un po' scurta Sì, ho detto Simpatica Bella E gli occhi Però, vabbè Non voglio rovinare le domande dopo Quindi mi fermo qua Ok Domanda quattro Quando hai incontrato la mia famiglia? Dopo cinque mesi? Sei Più o meno Perché Che è preciso Che ero uscita appena da una storia lunga E quindi non volevo Velocizzare le cose No, infatti Cioè, ho dovuto incontrarli per caso per strada Perché se no Ma questo non l'avevo ancora conosciuto Beh Ho incontrato io prima la sua Ci sta? Dopo un mese Dopo un mese Ok Domanda Five Ho qualche strano stessione Chico? Ti è giusto per dire una Si chiama Chico Per chi non lo sapesse Vabbè Chi fa mercato e roba del genere Non lo sa Smalti Trucchi Andiamo fuori a fare shopping Che è un casino Che beccadino E sei Ti manca ancora un po' Dobbiamo Erocizzarsi Sei Ma quanto tempo stiamo insieme? E questa È una domanda Allora Ufficialmente Sei mesi Non ufficialmente Contando prima Erano nove Però c'è chi dici che sono otto Quindi Dipende dalle voci Eh ci sono fatta comprensione Abbiamo fatto con calma Magari mi piace fare una vita Sento la stessuzione Abbiamo fatto con calma O no? Molta calma Ok Domanda numero sette Avete una tradizione in particolare? No No non abbiamo tradizioni No Non festeggiamo Non ci facciamo neanche gli auguri Ogni mese Quindi No Scialla Tanto festeggiamo tutti i giorni Bravo Quindi Un pochino Poi Non è vero comunque Otto Otto E faccio sette Otto Qual è stato il vostro primo viaggio in macchina? Domanda numero otto Qual è stato il vostro primo Il primo viaggio in macchina Che abbiamo fatto? Il primo viaggio in macchina Sì L'abbiamo fatto Per andare a genere Abbiamo fatto il compleanno Ti avevo fatto una sorpresa Ti ho portato la parola di Gino Wow A cinque anni Augurile E mi ce l'hai fatta Non te l'hai richiesto Non te l'ho chiesto io L'hai fatto capire Vabbè Domanda Qual è il mio ristorante preferito? Il tuo ristorante preferito? Il cinese purtroppo Però il cinese è anche dietro casa Tra l'altro Cioè avere un cinese dietro casa è Eh sì Quanta roba è cinese È buonissimo A chi non piacciono i spaghetti Spaghetti di soia Con il riso alla piastra Riso alla cantonese In voltino a primavera Cioè Poi vabbè L'italiano è stop Però Come da una bella pizza italiana così Vabbè Spaghetti di soia Undici Questa è la domanda Oh Amore Su qual argomento Che ti diamo di più? E qua Ragazzi Ragazzi Ma non vuoi far passare come una che Cioè Dai No vabbè Diciamo che ci sono tanti pretendenti Io naturalmente No dai Non entriamo nel discorso Però tanti pretendenti Eh ma io amo solo te lo sai Ma certo 12 Chi parte e pantaloni nella nostra relazione? Quanto a noi Li porto io Anche io Anche se adesso li porto corti Però E fa caldo Quindi Tutto corti Io porto e porto no Domanda 13 Dai Sto vado a prendere Dai Domanda 13 Se sto guardando la televisione Che cosa sto guardando? Telefilm Programmi Di cucina Di È vero È vero È vero Di danza Sì Programmi di danza Vabbè Anche prima Minchia ho sognato pure stanotte La cosa di danza Vabbè Poi domanda 14 C'è un cibo che non mi piace Praticamente non ti piace niente A parte l'insalata e i pomodori Non ci sono quello No no è vero Ci sono anche le verdure tipo broccoli No vabbè C'è ragione No vabbè Amo le verdure Però C'è Non c'è un cibo in particolare Ogni tanto Sto aggiungerato Di cucchiare Ma non è cosa mi piace amore È cosa non mi piace Eh Cosa non ti piace? Eh appunto Ti sto dicendo Che ti piace solo quella Vabbè 15 Tutto il resto Scusi Che cosa ho ordine da bere Quando mangio fuori Birra Chiara possibilmente Perché Piccola Ho acqua Anche acqua Sì Più birra Che acqua Non è vero dai Non mi fai passare come un'ubriacona Che ti faccio passare come un'ubriacona Mi ha chiesto quello che prendi quando vai fuori Ti piace fanno fuori 16 Amore 16 Che numero ha di scarpe? 6 30 No 37 Dai Bravo Hai visto? Giusto Ho un piedino piccolino Domanda 18 Che talento ho? Sì c'è un mio uno secondo te Non lo so Talenti Nei tantissimi Uccinare Cucinare Vabbè Sto cucinare bene Non penso sia Cioè lo faccio stai No So Vabbè Però sa cucinare Cambiare voce Spegnere il computer Ci vuole talento anche Nell'usare il computer Ah e non dire Poi 19 Che cosa mangerai tutti i giorni Se potessi? Questa è la domanda Che faccio da questa volta Ho già risposto a altre due domande Però vabbè Insalata Verde Verde Con aceto balsamico e olio Non è vero Ultimamente ti ho convertito Vabbè Limone Più salutare Olio, limone e sale Poi 20 Quali sono i miei cereali preferiti? Ah non so che si chiamano Sto i cereali Però sono pesantissimi Perché Si appiccicano sempre la tazzina Si appiccicano Non lo vuoi Neanche con la spugna Quella che gratta Riesci a togliere Mentre con le unchi e il martello E perché Cioè Quando Quando Calcolazione In teoria Quando uno mangia Andrebbe messa Andrebbe messa a bagno La tazza In modo tale Che si scrozza Tutto ciò che c'è dentro la tazza Ma io non c'ho voglia La mattina di farlo Quindi Li lascia la mattina Quindi Li lascia lì E dopo Luca la pubisce Si Con il martello Il bippone Pam Comunque sono Quelli a mie Ne ho un po' tutto misto Stra buone 21 Qual è la mia musica preferita? La tua musica preferita È Commerciale La discoteca Ah vabbè Si Commerciale Ausa Anche italiana Artisti come Laura Positri Max Vezza Sali Sramazzotti Liga Bue E La Laura Positri La Laura Positri È The top of the top Eh si è A dicembre Vado al concetto Laura Positri No 22 Qual è la mia squadra preferita? Squadra preferita? Si Che squadra ti? Ah che squadra ti è? Non quella che usavi Per fare i disegni La squadra preferita Eh Doveva essere l'Inter No Si Non so se si è convertita Ultimamente No no Inter da quando sono nata Il mio amma ha detto che mi cacciavano di casa Se non ti favo Inter Quindi Non avevo molte possibilità Più che è lecito Per sta domanda a 4 E' l'altro Perché avevamo tanti insulti Quindi Oh Ma non so Ma non so I migliori amici Se ne ho qualcuno di miglior amico E qua Dai dai Un nome La Laura Basta Vabbè Vabbè accettiamo Basta Per il resto Sono una ragazza perfetta Precisa Non si può chiedere di venire Con lo stampino Io Sono Italiana Tu te ne ho 26 Da dove vengo? Italiana Doc Milanese No Aspetta Ne facciamo Da dove vengo? Ripetima Da dove vengo? Ripetima Il quarto giorno Quando gli ho detto Questa domanda Lui mi fa Non vedo l'ora di farla Perché so già Che torte ti devo dire E adesso no La torta della nonna Ah Ebbè Però Deveva comprare Quindi E vabbè Per farla anche tu Non sei capace No E vabbè 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 Mi insegni Ok Perfetto La torta no Poi Pratico Qualche sport No C'era proprio L'anticristo dello sport Lei Cioè No Vabbè Ho fatto Nuoto Ho fatto danza Ho fatto palla a volo Adesso non faccio cazzo Però odia le pallavoliste Sì Sì Quindi si odia se stessa Sì Perché devono fare così col culo No Nulla a che vedere C'è nel senso Non prendetemi male Se avete fatto palla a volo Perché l'ho fatto anche io Poi Che cosa potrei fare per ore? Eh? Amore Ma dai Ma dai È facilissimo a dire La ripetima No Dai Ripetima Ma no Lo mettiamo amore questo nel video Ripetimela niente Continima Non so Non esistono i tagli Dai Truccarsi Però lei non si trucca Quindi non può farlo per ore No Io mi trucco solo per stare in casa È vero eh Potrebbe fare i video di YouTube per ore Quello sì Mi piace sì Su 30 Su 30 Se potessi vivere ovunque Dove andrei Ultima domanda Amore Sì Fatti bravo Eeeh Dai A Londra Faccio il mio A Londra Sì Il mio sogno sarebbe trasferirmi a Londra Però vabbè Vabbè dai ci sta Niente Queste sono le domande Che ho preso Da come ho detto prima Da Magico Trucco E spero che il video vi sia piaciuto Spero che il mio ragazzo Non so Vi abbia soddisfatto Nelle domande Cioè le risposte Più che altro Eeeh Eh Eh Niente Amore Cosa hai detto Niente Vabbè Eeeh Piantala Fa qualcosa Sì chiediglielo al telecamera Se faccio qualcosa Dai Sto facendo qualcosa Dai Rispondi Vi ringrazio Luca ti ringrazia Sì vi ringrazio anch'io Eeeh Voglio i commenti su Luca Perché assolutamente Voglio morire dalle risate Non c'è di commenti su Luca Perché per me Ecco questo Questo lo devo dire E' un sacchiotto Non è che Da Muzumbo magari Questi vanno conciottone qua Gli sacchiotti ce li hanno Eh Vero che assomigliamo al sacchiotto I famosi conciotti Dei sacchiotto Certo Amore Dai salutiamo Ciao Saluta Ciao Vi mando un bacio Buona ragazza Vi mando un bacio Vi aspetto nel mio prossimo video Ciao Ciao